Perché non dai lavoro al mio amico? Lui è pratico di giungla. Giusto? Giusto. Lo aspettiamo altri dieci minuti, poi andiamo via. Dopo Juventus non c'è, perché Juventus, io penso di ultimo. Il più grande è Juventus, non è più grande di Juventus. Juventus è uno dei migliori team del mondo. Questo slang che Ibrahimović ci svela di essere un tifoso dell'Inter fin da bambino. Il Barcellona è l'unica squadra nella quale volevo andare, l'ho detto anche a Moratti, e poi ha fatto un gesto, baciare la maglia già nella prima conferenza stampa, che evidentemente farà discutere. Cosa in contrario, i mercenari, dal primo settembre al cinema.